Raga raga, Milantorino è iniziata da due minuti, era a giocare a calcetto dall'altra parte di Roma quindi non ce l'ho fatta a tornare a casa per tempo, anzi si sono tornato a casa per tempo ma tempo di montare la roba è tutto e la partita è iniziata, sono col telefono perché sto caricando la videocamera infatti si è accesa ora, ora passo a quell'altra e la partenza è così e così non mi sono anche cambiato la maglia, non c'ho lo sfondo, ora faccio tutto, non vi preoccupate ci siamo, ci siamo, ci siamo ragazzi, ce l'ho qua, ce l'ho qua, ce l'ho anche fatta a fare la doccia a calcetto perché ho giocato alle 7, alle 8, no, no, nianco, mamma mia, c'è già un giallo per... buongiorno raga ma perché giochiamo sempre con la terza maglia in casa? sei, i saltatori del Milan, occhio alla battuta va Donali, cruni, ceci, ruuuu oliviero, oliviero lo chef olivier 1-0 e me lo sentivo raga, me lo sentivo perfetto ragazzi lo chef oui monsieur lo chef olivier 1-0 Milan palla tagliata di Tonali, colpisce Tessa Krunic che gliela mette proprio, cioè, c'è scritto la cappella è dentro, spingila cioè, più semplice di così sto gol per Giroud raga, il Torino è una squadra che non è tutti conciata così tanto, eh bisogna fare attenzione, bisogna fare molta attenzione quarto gol stagionale per il nostro chef l'altrino ha una punizione colpo di testa, di Belotti fuori, dai no, un po' vega Olaina, nooo Singoo Singoo bravo Romagnoli vabbè, poi Singoo si frega da solo uh, leao sublime sublime il telefono sale meckers no deviato leao verso sale meckers si chiedono un tocco di mano gioca, gioca, gioca no, Tonali ha fatto l'anticipo di arrivare l'altra palla no, 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 no brecalo, no Singoo, no oddio, ha lasciato a Belotti che palla ha perso Tonali raggiù no, Dazon porca puttana che sito di merda leao sinistro eh, sì, ma che cazzo zini da 30 metri oh io le gallo la butto lì le squadre di Yuri ci sono pericolose Singoo Caluru fallo qua ti peccaccia giallo per forza leao ma no ooo perché tiravo da 500 metri ci stava quando questa squadra non ci stava non raccontiamo stronzate non ci stava non vedo motivo per cui dovremmo subire il pareggio all'inora bravo leao provano a sbilanciarlo fallo 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 vattonali dall'angolo ma che angolo la punizione o sei le me che sbaffo dai non ci recupero bene almeno vado a mangiare c'è una fame oh vattonali falla dentro fuori di nulla chi è stato Krunic si fino al primo tempo raga ne ho viste di più movimentose fino ad ora però d'altra parte vedo un Milan molto più sul pezzo rispetto a tante altre partite che abbiamo giocato ultimamente poi se finirà così io me lo auguro magari che se ne faccia anche un altro per ora come a Bologna primo tempo inecepibile più o meno anzi forse è meglio questo che quello di Bologna del primo tempo anche se con un gol in meno secondo tempo secondo tempo entra chi e esce Romagnoli bene perché era munito strano esce anche Kaluno entra Ternandez entra Rodriguez escirà Buongiorno sicuramente perché ha munito anche lui bello Ternandez è sbarbato dai secondo tempo su caputtana se ne me che si prova a fare il cross scivola ma che cazzo ma Rodriguez colpo di testa chi era Bobega cazzo ce la fare attenzione raga comunque in salatina stracchino senza lattosio perché se no caos spruzzo e pomodori imitattici comunque ecco una cosa di Tataruzano che rinvia bene con tutti e due piedi cioè bene la palla la butta su poi a volte casca lui dovrebbe a volte no Netti no Velotti non è uscito Tataruzano vabbè la è sbucciata va bene va bene entra Sanabria esce Velotti è qua io mi preoccuperei ragazzi Ternandez ha fatto un passaggio di testa che si si è allontanato perché la no Ternandez si è fatto togliere palla Sanabria grande Tomori raga noi 27 minuti così non li reggiamo però breccalo no grande leao che recupero sta fetta con Ternandez leao leao meravigliao no che palla ha sbagliato Tomori no era Bacayoko ecco adesso mi torna di più G2 ha tolto la palla benna ser ok stiamo vincendo tutto bene tutto bene però ragazzi ci sono squadre che non te lo lasciano fare quando te lo lasciano fare devi approfittarle per forza no Sanabria Tataruzano non l'ha trattenuta c'è Tomori su meno male è tirato in merda raga seconda amnesia difensiva abbiamo perso una partita in questo modo l'anno scorso ed esattamente contro il Sassuolo che spazio difensivo che gli si è lasciato bravo chi era a intervenire calcio d'angolo per il Torino non possiamo staccare la spina adesso grande leao meravigliao il presidente salame coso teo 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 non tirare no se le makers raga veramente uno dei peggiori in campo ma peggiori eh pratt palla fuori calcio d'angolo ma qua c'è fallo ma qua c'è fallo raga però queste amnesie difensive non vanno bene la Tarusano era due metri fuori della porta quindi poco fuori causa entra Zlatan esce chef Olivier 4 minuti di recupero fra oh se c'erano due gol allora c'è un giorno di recupero Ternadez Ibra ha messo giù no c'è nulla c'è nulla ragazzi preca lo popega non ragazzi dai è l'ultimo sforzo ta 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 va dentro Tarusano perché non le blocchi queste palle raga calcio d'angolo tutti in area di rigore anche Milinkovic Savic va Milinkovic Savic mette fuori Kier la deviazione senza riuscire il 19 granato altra pallone messa in mezzo altra palla messa in mezzo rimessa dal fondo Fischia Fischia Sanabria che la liscia anzi no la colpisce male sotto porta dai dai che è vinta dai che è vinta dai che è vinta dai che è vinta raga ma è finito il tempo finisce Fischia andiamo un'altra vittoria forza Mila lasciate like iscrivetevi e andiamo a fare il video sempre forza Mila ragazzi